buongiorno sono marcella rognoni del sistema bibliotecario di ateneo dell'università di genova ringrazio live che mi ha richiesto questo questa piccola intervista questa testa mi dà la possibilità di portare la testimonianza della nostra esperienza genovese naturalmente io mi riferirò in particolare al mondo delle biblioteche accademiche la prima cosa che vorrei dire è che in questo periodo gli utenti delle biblioteche accademiche hanno manifestato più e più volte la la mancanza delle biblioteche e questo mi è sembrata una cosa molto bella una cosa che ho apprezzato molto e che vorrei interpretare in questo modo cioè vorrei pensare che nel futuro delle nostre biblioteche cioè pensando a un ritorno alla normalità all'interno degli atenei ci sia una maggiore consapevolezza che le biblioteche dell'importanza del ruolo che le biblioteche rivestono nei confronti dell'utenza universitaria il secondo punto che vedo come diciamo uno spunto positivo da portarsi dietro nel ritorno alla normalità è quello della riemergere in un certo senso del ruolo sociale che anche le biblioteche accademiche rivestono nel mondo nel mondo universitario faccio il caso più semplice che è il caso dei libri di testo questo la difficoltà a reperire il libro di testo cioè libro che normalmente serve palesemente per la preparazione di un esame di riperire questo tipo di materiale al di fuori del circuito delle vendite a fronte della chiusura dell'impossibilità di utilizzare materiale cartaceo delle biblioteche ha creato un grosso disagio in alcune aree disciplinari ecco io penso che in questo momento qui sappiamo molto bene che tante famiglie sono in difficoltà per cui anche il semplice acquisto di un libro di testo quando magari gli esami sono tanti e o i figli sono più di uno anche l'acquisto di un semplice libro di testo può costituire un problema in questo momento ecco quindi io penso che l'attenzione che le biblioteche accademiche hanno hanno riservato a questo problema sia indice della del forte valore sociale che anche la biblioteca accademica riveste la il terzo aspetto di cui volevo parlare è la potenza comunicativa che è stata messa in campo in questo periodo a volte abbiamo notato che tra l'altro la situazione di difficoltà ha creato un'utenza più ricettiva in condizioni normali a volte molto difficile per le biblioteche secondo me far passare l'informazione far passare quali sono le risorse e come accedere ecco la necessità ha portato a un'utenza più ricettiva e quindi da un certo punto di vista ad una comunicazione più efficace una comunicazione efficace ma anche più creativa e questo l'aspetto della creatività io penso che sia uno degli aspetti che da questo periodo di pandemia dovremmo portarci al durante dobbiamo portarci vieto nel nel ritorno alla normalità naturalmente non posso neanche evitare di dire che si è verificato il abbiamo confermato e sicuramente rimarrà uno degli aspetti centrali del nostro lavoro quello del rapporto con l'utenza questo rapporto anche se a distanza si è concretizzato in una portazione diciamo one to one cioè bibliotecario il singolo bibliotecario ha prestato assistenza al singolo utente in quanto il tipo di richieste che abbiamo ricevuto è stato veramente il più vario e quindi molto spesso le risposte sono state personalizzate il ritorno diciamo quindi a un rapporto anche più umano anche più creativo nel rapportarsi con l'utenza credo che possa essere una delle caratteristiche della biblioteca accademica nel futuro infine vorrei dire che mi è sembrato anche molto importante e spero che possa proseguire il fatto che la difficoltà ha portato una grande rafforza a rafforzare moltissimo il rapporto tra i bibliotecari non solo a livello diciamo dell'università di genova ma comunque anche come comunità professionale e quindi penso che questo aspetto dovremo dovremo sicuramente puntare anche nel futuro perché gli effetti nel presente sono stati a mio avviso davvero notevoli approfitto per un ringraziamento pandemico a tutti i miei colleghi che hanno lavorato e stanno davvero lavorando tantissimo e veramente molto bene e quindi grazie a tutti